Ragazzi in Aula è un progetto di Open Government del Consiglio regionale del Piemonte che consente ai giovani delle scuole secondarie di conoscere i processi decisionali che caratterizzano l'Assemblea legislativa. L'iniziativa è stata presentata a New York alla United Station Public Service Day 2012. L'evento è stato trasmesso sul canale ONU in diretta streaming.